Se accende il Natale a Polignano a mare fino al 7 gennaio i vicoli della città natale di Domenico Modugno saranno addobbati e illuminati a festa in occasione della seconda edizione di Natale a Polignano. C'era una volta il Natale, 30 giorni di appuntamenti in cui si potrà assistere a villaggi incantati sparsi per le viuzze, mercatini, grandi luminari e spettacoli e intrattenimento che fonderanno tradizione, innovazione e artigianato locale in un'atmosfera magica che coinvolgerà tutta la città. La città, definita da Booking la più accogliente del mondo, dà così il benvenuto ai suoi turisti e ai suoi cittadini. L'iniziativa coinvolgerà le strutture ricettive e le attività commerciali di Polignano contribuendo all'incremento dei flussi turistici durante il periodo natalizio. Obiettivo della Kermesse è quello di dare continuità alla straordinaria stagione turistica e diventare un punto di riferimento per il mercato internazionale, ma al tempo stesso proporre un modello di sviluppo che pone al centro la qualità della vita del turista. Nel calendario sarà centrale l'offerta culturale del teatro pubblico pugliese, oltre alle iniziative collaterali organizzate dal SAC e dalle associazioni del territorio. È sempre bello venire qui a Polignano. La conosciamo Polignano, la conosciamo come località di mare, quindi venirci a Natale è stata un po' una scommessa. Adesso con le luci natalizie è ancora di più una bella atmosfera. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS